l'artista esistenza del suo buonasera a tutti una poesia odierna ricordi mai appassiti quali sono i ricordi mai appassiti? vale per ognuno di noi quelli che noi abbiamo mai dimenticato quelli che rimangono un po' raccolti nei meandri diciamo della memoria nei posti più raccolti ecco speculari specifici delle nostre pareti cardieche laddove nessuno può mettere mano un enorme borsone contiene diagnosi ed esami dei laboratori e poi ricordi lontani mai appassiti gli occhiali fotocromatici accarezzano lunghi raggi di sole tra balcone e ringhiere scardinati e arrugginiti quelle lunghe passeggiate sembrava non aver mai meta alcuna il lupo astuto non si rifocilla più nella stessa tana il tempo è tirano e primo poi mastica e sputa emozioni agli osa non profuma come a mantieri quella giallogno alla mimosa la follia ti accarezza e poi ti schiaffeggia in taluni casi ogni dieci minuti ma nei tempi odierni ormai nessuno ci fa più caso ognuno di noi spera vivamente che il tempo che ancora oggigiorno ci viene concesso venga ben speso quindi con un fune finale abbastanza particolareggiato anche spicoloso e forbito e quant'altro io credo fondamentalmente ci sono dei casi in cui delle persone si portano appresso un enorme borsone con il loro passato con i loro ricordi con le loro diagnosi con i loro affetti con le difficoltà contingenti con esami di laboratorio con quello che stanno facendo con le sofferenze che si portano dentro ripeto tanti ricordi lontani ma passiti possono essere i ricordi di un lavoro che fondamentalmente non c'è più o potrebbero esserci più ricordi paterni materni situazioni magari tendenzialmente sgretolate o quanto meno oggi magari riviste a buon mercato ragazzi o fidanzati magari che non si sono più visti amici che sono scompare situazioni contingenti attuali laddove se è un modo di pensare un po' più particolare rimani solo vale per ognuno o un po' per ognuno di noi spesso voglio dirlo di ogni riferimento a qualsiasi persona è da considerare sicuramente casuale perché è un po' quello che possono essere i miei i vostri ricordi i ricordi di tanti di noi per quanto riguarda il passato gli occhiali fotocromatici occhiali fotocromatici tendenzialmente riescono ad abbracciare dei tratteggi lunghi di sole lunghi raggi di sole e perché è un po' come se abbracciasse delle emozioni quelle emozioni che da tempo non riescono più ad avere però attorno a noi tra i balconi le ringhie sono scardinati e arruggini cioè contesti a livello sociale che non sono il massimo perché i balconi sono scardinati poche idee insomma pochi concetti le ringhie sono anche arrugginite perché arrugginite perché non ci sono idee nuove ripeto rimaniamo stati ci sono le idee del passato e quant'altro ci sono tante passeggiate tante lunghe passeggiate fra amici e amiche molte volte hanno meta alcuna quella è un po' la libertà la libertà ti porta dove vuole è una gran bella cosa però il lupo molte volte la parte di noi quella un po' più saccente pretestuosa presuntuosa ipocrita bugiarda non si focilla mai nella stessa tana non torna mai più nello stesso luogo del delitto perché preferisce cambiare zone cambiare aree comportarsi in modo diciamo differenziato perché molto più astuto più parsimonioso accurato e quant'altro il tempo il tempo il momento cicli che ti danno è infame l'abbiamo detto prima o poi ti fa di tutto di più ti mastica e ti sputa le emozioni a iosa quindi continuamente perché perché riesce a viverti quel poco di buono che hai tante volte o tante situazioni non sono diciamo il massimo perché attorno a noi non c'è sincerità ormai tanta finzione e quant'altro ecco non provo più come mantieri quella già l'ognolo in uso quella bella essenza quella bella esperienza quel bel ricordo già non è più come mantieri come prima perché perché magari sono tante situazioni contingente sono le stesse che ne so le offese i ritardi le distanze quello che volete la follia spesso e volentieri ti accarezza e ti schiaffeggia quasi a distanza di ogni dieci minuti che tra l'altro fa parte di un nuovo tempo in cui nessuno ci fa più caso oggi facciamoci caso chi non è pazzo chi non è borderline chi non è bui polare chi non ha problemi chi non ha l'ansia chi non barella col cervello è diventata una situazione quasi una sorta di deja vu di tredunion con contesti attorno a noi che non li voglio giustificare che non sono effettivamente le patologie però tutte quelle che sono diciamo le sai le sofferenze a livello cerebrale di personalità multipla e quant'altro sono un pochettino quasi per certi versi all'ordine del giorno e io penso che ognuno di noi spera via vendi in qualsur dato che il tempo di ossa disposizione è sempre di meno che tutto quello ci venga concesso noi non lo buttiamo nel cesso scusate la verità cerchiamo di spendere il migliore modo possibile c'è chi ama fare lunghe passeggiate chi ama andare al mare chi ama scrivere chi ama dipingi chi ama disegnare eccetera speriamo un po noi tutti chi ama fare certi tipi lavori ama fondamentalmente mettersi in discussione nonostante poi passano gli anni importante importante spera sempre io come credo un bel po di persone a cui il tempo concesso non sappiamo ancora quanto può essere di spendere il mio modo possibile artista esistenziale se buona sarà da tutti